Non esiste l'amore a puntate, l'amore a porzioni, l'amore totale e quando si ama, si ama fino all'estremo. Lo dimostra il traguardo raggiunto da Elso Mazzanti e Dorina Belli, rispettivamente di 95 e 94 anni, che oggi a Famiglia Nova hanno festeggiato con un brindisi, una torta speciale e con l'amore di tutti, le nozze di diamante. Bellissimo evento, 60 anni di matrimonio, non sono un evento che si può verificare tutti i giorni. Elso e Dorina sono il cuore di Famiglia Nova, sono con noi da tre anni e sono stati tra i primi a entrare in struttura dopo il blocco della prima ondata pandemica. Non li ha mai sentiti litigare lei? Come in tutte le coppie ci sono i litigi, ci sono i momenti di gioia ed è proprio questo il messaggio importante, che in queste strutture si continua a vivere a pieno, si riesce a vivere una vita in cui si coltivano le pensioni che si avevano prima e si cerca di garantire loro la più grassa serenità e la qualità di vita migliore che possiamo dargli. Dietro alle spalle di Elso e Dorina vediamo anche una fotografia, che cosa rappresenta? Questo rappresenta una giornata, la giornata di San Valentino, che abbiamo festeggiato ogni anno che loro sono stati qua con noi, riservandogli una serata speciale insieme. A ricordare la vita vissuta da Elso e Dorina, la figlia Anna, che ha ripercorso con i suoi ricordi la vita dei genitori. Oggi siete qui a festeggiare, quindi una grande festa, 60 anni insieme e anche più gli anni di fidanzamento. Che gioia si prova! Sicuramente è un gran bel traguardo, io sono fiera di loro perché sono stati dei genitori magnifici, sono la loro unica figlia, mi hanno adorato in questi anni, veramente mi hanno dato tutto quello che era possibile dare. Che lavoro hanno fatto? Mamma era un'insegnante elementare, lui era commerciante, quindi si sono... In Fano? No, loro nativi di Montemaggiore e adesso sono trasferiti a Fano. Sono qui da tre anni, si sono trovati molto bene e io sono contenta, sicuramente è un traguardo e... Sicuramente è una vita di sacrifici ma ripagata anche dalle gioie della vita. Però loro sono stati sempre molto sereni, penso che l'ingrediente principale di questo rapporto sia il rispetto reciproco e l'accettazione degli inevitabili difetti di ognuno, loro però si sono sempre tanto sostenuti. Per tutti un esempio da seguire. Alla coppia, tanti auguri da tutta la redazione di Fano TV. Alla coppia, tanti auguri di Fano TV.